Cristina Ciminnisi, 2031 voti, dal Movimento 5 Stelle, è una dei cinque deputati della provincia di Trapani. Ebbene, chi è Cristina Ciminnisi? Io sono innanzitutto un'attivista del Movimento 5 Stelle. Da sette anni ho lavorato per il Movimento 5 Stelle all'interno dell'Assemblea regionale siciliana, dove ho svolto attività prevalentemente giuridiche a sostegno dell'attività parlamentare dei nostri deputati. Adesso ho dismesso i panni del tecnico per vestire quelli del politico e mettermi in gioco in prima persona in questa competizione elettorale che mi ha vista vincente rispetto ai miei compagni di squadra. Quindi lei si mette in gioco, ma secondo lei quali sono le priorità da affrontare oggi? Abbiamo tantissimi temi da affrontare, sicuramente la Sicilia ha tantissimi problemi. C'è un problema innanzitutto che è quello relativo al problema dei rifiuti. Perché questa è una tematica fondamentale, ma penso anche a tantissime altre esigenze, come quella legata alle esigenze sanitarie, all'accesso alle cure, che sia tempestivo per tutti i nostri cittadini. Penso ai problemi infrastrutturali che abbiamo a livello di rete idrica, eccetera. Penso ai problemi dell'agricoltura, quindi alla necessità di riformare quanto prima tutti i consorsi di bonifica. D'Alesa, insomma, potremmo veramente spaziare tanto, c'è tanto lavoro da fare. Spero che, pur essendo all'opposizione, riusciamo a portare a casa qualche buon risultato. C'è tanto lavoro da fare. Purtroppo in Sicilia si perdono tantissimi miliardi che vengono dall'Unione Europea. C'è una burocrazia regionale che è meglio chiamare l'entocrazia. E questo si riflette su tutte le attività produttive nonno della Sicilia. Che cosa si può fare per snellire la macchina burocratica? Sicuramente bisogna provvedere quanto prima ad una semplificazione amministrativa perché le problematiche che abbiamo visto nel passato con i fondi europei, con la programmazione europea, rischiano di ripercuotersi allo stesso modo anche per l'accesso ai fondi al PNRR. È un'opportunità che ovviamente va colta, va colta con immediatezza, perché comunque è un treno che passa soltanto una volta. Lì c'è veramente la possibilità di dare una svolta alla nostra regione, però è chiaro che gli uffici devono essere potenziati e adeguati in modo da poter garantire un accesso a questi fondi che abbiano delle refluenze positive e immediate sui lavori da avviare. Sui tanti problemi della Sicilia lei ha fatto poc'anzi una disamina a 360 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Trapani, su che cosa lei intende combattere? Naturalmente c'è sicuramente un problema infrastrutturale che mi sta molto a cuore. Le altre tematiche sono trasversali, in realtà questa come le altre sono tematiche trasversali tutta la Sicilia, la provincia di Trapani sicuramente ha delle specificità, che sono anche quelle delle isole minori, che hanno ovviamente delle esigenze particolari di cui bisogna tener conto e in questo caso sicuramente me ne farò carico. C'è il problema sanitario a cui ho fatto già riferimento, perché nel piano delle opere già previste dall'ASP di Trapani ci sarà una grande riforma, alcune già per esempio finanziate, penso per esempio al presidio di Alcamo, ma altre invece che saranno messe in atto con il nuovo PNRR. Quindi in quel caso ci sarà da monitorare che effettivamente si possa accedere ad una medicina di prossimità che sia più vicina al cittadino, meno politicizzata e soprattutto che consenta un accesso reale alle cure. Quando uno si candida mira naturalmente ad essere eletto. Lei chi ha temuto in particolare della sua lista? Per quanto riguarda Alcamo, Roccaforte e Grillina, l'avvocato Terranova non ce l'ha fatto, non diciamo a sorpresa, è stata eletta lei. In realtà non temevo nessuno, perché noi abbiamo lavorato come una squadra sin dal primo momento, siamo stati coesi sin dal momento in cui le candidature sono state decise, quindi eravamo coscienti che ciascuno di noi avrebbe apportato alla lista un contributo differente, perché abbiamo tutti un background differente. Io ho fatto un percorso, altri miei colleghi ne hanno fatto un altro e ciascuno di noi ha apportato il proprio contributo, la propria personalità all'interno della competizione elettorale. Nessun timore, anzi è stato bellissimo condividere questo percorso con tutti gli altri quattro componenti della lista.